Da A Ho attraversato analisi e ricerche, letture faticose, apocalittiche discussioni, raffronti, introspezioni, studi, approfondimenti, ripensamenti, Strade e ricerche infinite, dottrine e teorie innumerevoli, da Ulisse a Dante Alighieri, dalla Bavagad Gita alla Bibbia, dall'albero della vita alla torre di Babele, dal channeling ai maestri immateriali, dal cuore di Gesù agli Esseni, Dai Maia agli Hopi, dai Sumeri agli Egizi, dalla cintura di Orione alla pianura di Cidonia, da Francesco d'Assisi a Gustavo Rol, dai Templari ai Fedeli d'Amore, dalla pietra filosofale al Santo Graal, dagli indiani d'America agli sciamani australiani, Dal museo di Alessandria ai rotoli di Qumran, da Einstein a Tesla, dalla geometria sacra ai frattali, dagli illuminati alla massoneria, dalle scie chimiche ai bambini indaco, dal baratto al signoraggio, da una religione all'altra, da Newton a Daun Brown, Da Alan Kardec allo Spiritismo, dal Titanic alle Twin Towers, dai Quanti ai Rosa Croce, dallo Yoga al Reiki. Però non so ancora da dove vengo, che cosa faccio qui e dove vado, perché? Commento Perché la tua coscienza non ha ancora la risposta dentro di sé. E quando la conterrà? Quando, sperimentando da Ulisse al Reiki, sarà abbastanza ampia da contenerla.